Quasi ci siamo. Ok, quasi quasi ci siamo. Che pensi da mettere nella giacca? Si, questa è la giacca. Forse che vi miglioriamo in guarda della società. Questa è la giacca dell'azienda. No, questa è l'occasione. Bene, qui ho un pochetto. Si stimata. Si stimata. Ok. Guarda qua. Quasi grassi. Ciao. Allora. Ok. Forse fosse un marino così. Allora. Prima che si vada deve sapere camminare. Perfetto. Cammino. Ok. Allora.